Siamo in diretta Ci siamo Benissimo Eccoci Allora, chi è già collegato mi dà un feedback Si vede, si sente, ci sono o non ci sono? Ci siamo? Ciao Marika Vediamo, vediamo Ciao Francesca, benvenuta Ciao Silvia Si vede, si sente forte e chiaro, bene Ciao Lara Bene, bene, bene Ciao Marta Uh, bene, bene Benissimo Così Buon pomeriggio Antonia Tra l'altro Così Facciamo Si sente che c'è sulla musichina sotto di Halloween O facciamo finta di niente La togliamo come se niente fosse Grazie Silvia Bene, bene Anche perché se è di disturbo la togliamo e tante care cose Ok, ok Aspettiamo un qualche minuto Ciao Patti Bene, bene La musichina non si sente Ma facciamo finta di niente La togliamo come se non vi avessi detto niente No, poi non vorrei che diventi troppo di disturbo Era carino Era quella di Ok, ok Era quella di Nightmare Before Christmas Però dai Facciamo finta che non Non lo sapete Buon pomeriggio Buon pomeriggio Ciao Sara Ok Allora Siamo in un numero Buono Io direi di cominciare Tanto Poi Chi si collega dopo Comunque Può recuperare i primi minuti Una volta terminata La diretta Perché ovviamente il video rimane Rimane poi salvato nella pagina Quindi Non si sente nulla della musica Va bene Fa niente Della musica Dici Francesca Era carino Mi sarebbe piaciuto farvela sentire Però non vorrei Ciao Maria Non volevo rischiare Che fosse troppo di disturbo Dopo per Per la chiacchierata Quindi Facciamo finta di niente Allora Iniziamo un attimino Faccio una piccola presentazione Fa niente dai Mi dispiace La musica Prossima volta Faccio una piccola presentazione Per chi non mi conosce Così intanto Magari si collega ancora qualcuno Eventualmente E poi iniziamo a parlare Delle cose interessanti Di oggi Ok Buona Allora Iniziamo Tantitutto Buon pomeriggio a tutte Grazie di essere qui Mi presento brevemente Ripeto Per chi è la prima volta Che mi segue Io sono Rita Nasco come tecnica erborista Sono infatti laureata All'università di Milano Ho conseguito un master In fitoterapia E uno in alimentazione E poi Quando è nata La mia bimba Due anni fa Mi si è accesa La lampadina Su un mondo Una visione Totalmente nuovi Ovvero Il mondo della donna E delle sue fasi Delle mamme E dell'infanzia Da lì ho deciso Che mi sarei specializzata Per operare In questi ambiti Che spesso Sono lasciati da parte E non vengono affrontati Per cui mi sono iscritta A un corso Per diventare Operatrice olistica Del materno e infantile Punto ad ampliare E conseguire un titolo Ufficiale Anche in ambito femminile Sto portando avanti Anche gli studi Per la promozione Della salute al naturale Con un corso Di naturopatia Mi piace definirmi L'erborista delle donne Delle mamme Dei bambini E allora Dopo questo Piccolo Piccola introduzione Sorge la domanda Come mai Un webinar Sulle piante Delle streghe Da questa qui Perché Perché in fondo In fondo Io nasco anche Un po' come strega Cioè uno dei motivi Per cui Mi sono iscritta Al corso di laurea Di tecniche erboristiche Era perché Mi sentivo Una strega verde Ok Perché comunque In quel periodo Bazzicavo Nei bassi fondi Della 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 Wicca Milanese Per cui Eccomi qua Quindi La magia Mi ha sempre Affascinato E Anche perché L'utilizzo Terapeutico Delle erbe E la stregoneria Sono sempre andate A stretto A stretto Braccetto A stretto Contatto Quindi Ecco perché Un erborista Mamma Materno Infantile Eccetera Eccetera Si è messo a fare Un webinar Sulle erbe Delle streghe Ora Fatto questa piccola Introduzione Per chi È la prima volta Qui che mi sta Seguendo A me piace Buongiorno Micaela Mi piace Comunque Che ci sia Della Dell'interazione Quindi Scrivete Chiedete Fate Fate di tutto Ok Quindi Scrivete pure Commenti Domande Eccetera Eccetera Scrivete pure Che nel mentre Si parla Si chiacchiera Rispondiamo Tranquillamente A queste domande Fatto questa piccola Introduzione Vai Andiamo avanti Prima di tutto Vorrei fare Un piccolo Cenno Alla festa Che ricorre Alla notte Tra il 31 Ottobre E il primo novembre Ok Halloween Halloween Come lo conosciamo Pieno di spiriti Demoni E streghe È una visione Risalente All'ottocento Ed è nata Negli Stati Uniti Le sue origini Sono da ricercare Nella cultura Celtica In realtà Quindi Nel vecchio mondo Dove Sawin Si pronuncia così Il nome Celtico Di Halloween Rappresentava La fine dell'anno L'inizio Dell'inverno Rigido E il giorno E il giorno dell'anno Dedicato ai morti Per le osanze Tradizionali Accendere falò Intagliare I frutti Della stagione Quindi le zucche Per decorare Gli altari E le case Fare rituali Per scacciare Gli spiriti maligni Per l'idea Della morte Simbolica Della terra E del ricordo Dei morti Nella nuova Interpretazione americana Tutto è stato Molto esasperato E tinto di macabro E stregonesco Per chi se lo perdesse Replicabile Sulla tua pagina Si si Assolutamente Una volta terminata La La diretta Sarà possibile Rivederla Cioè rivedere il video Nella sezione video Della Della pagina Quindi Assolutamente Per chi dovesse Mandare via Scollegarsi Eccetera Eccetera Senza problemi Può recuperare La parte che perde Tranquillamente Sulla Sulla pagina Dopo Senza problemi Quindi dicevamo Appunto Per tutte queste caratteristiche Che c'era Nella cultura celtica Nella nuova Interpretazione americana È stata proprio Portata al massimo Dell'esasperazione Ok Non stiamo a scendere Poi nei dettagli Di come poi La religione cristiana Abbia intessuto Una visione di terrore Di peccato Su questi festeggiamenti Pagani Dedicati alla natura In realtà Ma è proprio grazie a questo In teoria Che siamo qui oggi Piccola curiosità In molte parti del mondo Italia compresa Permangono Moltissime Ma moltissime Antiche tradizioni celtiche Di celebrazione Di questo giorno In moltissime parti del mondo Quindi Sawin Veniva festeggiato Secondo la tradizione Di quella del paese E anche in Italia Ci sono tantissime tradizioni Che tuttora Vengono Vengono mantenute Per chiunque fosse Interessato A queste tradizioni A queste curiosità Sulle tradizioni del mondo Dedicate A Halloween Sawin Che dir si voglia Posso inviare un file Con queste tradizioni Ok Lo caricherò anche poi sul sito Lo caricherò poi anche su Instagram Quindi Sarà disponibilissimo Io su qualsiasi mio canale E anche Per chi Lo desidera Un file Con delle semplici Celebrazioni Da fare Nella propria casa Sempre per celebrare Questa giornata Quindi ecco Magari dopo Nei commenti O via messaggio privato Mi mandate La richiesta Di questi file E io ve li invio Senza nessun tipo di problema Ok Ci siamo Oppure appunto Li troverete Sul mio sito Poi metterò Tutti i link Del caso Comunque poi Li pubblicherò Anche su Su Facebook E Instagram Senza problemi Anche perché Sono delle Quelle sulle tradizioni Del mondo In Italia Sono molto carine Bene Sono molto carine Sono molto interessanti E anche Secondo me La celebrazione A casa propria Di questa Di questa festa Secondo me Molto Molto bella Molto Molto suggestiva Anche devo dire Quindi Se volete Dopo Mi invio tutto Bene Bene Sono contenta Ok Come detto Nell'introduzione Medicina e magia Sono spesso andate Di pari passo Nella storia dell'uomo Gli sciamani Erano sapienti E mistici Curavano il corpo Con le piante E lo spirito Con la magia Il confine Tra l'utilizzo Terapeutico E l'utilizzo Magico Era molto Sottile E spesso Tra l'altro Non esisteva Ok Anche perché Così Esempio sciocco Esempio piccolo Se le malattie Venivano associate A possessioni Demonia Che possessione Di spiriti O comunque Per tiri mancini Di spiriti Capite bene Che il Il limite Il confine Tra queste due Era assolutamente Inesistente Quindi C'era proprio Questo dualismo Della cura Con le piante E soprattutto Di chi esercitava Questo Questa medicina Quindi Appunto Dualismo Tra figura Che cura E figura magica Andando avanti Con la storia Poi Con l'evoluzione Delle religioni Monoteistiche Questo intreccio Ciao Silvia Questo intreccio Si è Man mano sciolto Si è proprio Allontanato Questo intreccio E la parte magica È stata bandita E condannata Sono comparsi Tra l'altro Anche degli elenchi Di piante Demoniache E le persone Che ancora Tenevano vivo Questo dualismo Sono state bruciate E torturate Ok La storia Poi ce lo insegna Ce lo insegna Ampiamente Come è andata Poi questa cosa Queste medicine Poi ripulite Diciamo Dalla maggior parte Degli aspetti Prettamente magici Altro non sono Che quelle Metodologie Che si basano Su un concetto Elistico Dell'organismo Formato Non da compartimenti Stagni Ma dall'unione Del corpo Anima Spirito Ed energia Dove non si considera Solo il sintomo Fisico Ma si ricerca Anche l'origine Psicologica Ambientale E sociale Ma non è questo Il momento Di approfondire Questo aspetto Non anticipiamo Non anticipiamo Nulla Va bene Silvia Silvia dice Che zompetta Tra facebook E instagram Va bene L'importante Che ci sei Silvia Ok Quello di cui Parliamo Oggi Sono proprio Quelle piante Maledette E il loro legame Con le streghe Che nell'immaginario Collettivo Sono coloro Che maneggiano E conoscono I più profondi Segreti Di queste piante E secondo Appunto Questa concezione Un po' Demoniaca Non aspettano Altro Che utilizzarle Per nuocere Il prossimo Tra l'altro Detto proprio Così Le piante Velenose Sono sempre Quelle più belle Quelle più Affascinanti Più Più carine Da studiare Io ho sempre Avuto una predilezione Non sono pericolosa Da quel punto di vista Non avvelino nessuno Però sono sempre Molto quelle più Affascinanti Quelle più Interessanti Da studiare Ovviamente Sono associata Alle streghe Anche piante Non tossiche Ovviamente Le famose streghe Verdi O le streghe Erbane Non avvelenano Le persone Ecco Esatto Le Erbane Comunque Esatto Esatto Silvia Come me Apprezza La digitale Tanto cuore Per la digitale Le streghe Erbane Comunque Come dicevamo Prima Sono figure Comunque Che curano Che si prendono Cura Delle persone Ovviamente Poi ci sono Anche Le pozzoncine Quelle un po' Come dire Quelle non proprio Politically correct Come si può dire Alcune di queste Piante non tossiche Legate alle streghe Sono L'iperico Per esempio Pianta famosissima Collegata alle streghe O il ginepro O addirittura Anche al frassino Così Curiosità Lampo Il frassino È il famoso Yggdrasil È l'albero della vita Delle Delle Religioni Norrene Ed è Una pianta magica Una pianta sacra Quindi Il legame Tra pianta Tossica E pianta Curativa È anche questa Molto legata A questo dualismo Perché ci sono anche queste piante curative Perché il loro utilizzo in stregoneria Si basa sui cicli naturali di vita, morte e rinascita Buongiorno Barbara Ben arrivata Quindi appunto Alla base dell'utilizzo di queste piante Sia quelle Dellenose Sia quelle curative C'è Questo Questo legame con i cicli di vita, morte e rinascita Ok Anche tutte le feste O sabba Che compongono la ruota dell'anno Sono legate a questi cicli Ok Il tutto Poi assunto Un'accezione negativa Con lo stratificarsi di superstizioni E credenze Di origine cristiana Ovviamente Ma Ripeto Non anticipiamo nulla Attenzione Piccolo Le piante descritte Che andiamo Di cui andiamo a parlare Sono molto velenose Anche mortali Quindi Sono affascinanti da conoscere Ma non da usare Ok Non fate Non fate niente Mi raccomando Però Sono molto interessanti Cioè Molto Molto bello parlarne A me piace molto Sono Sono belle Quindi È il motivo per cui Ne parliamo in questo video Però non usatele Non usatele Si chiama Omicidio Per favore Poi date la colpa a me No Per cui Attenzione Mi raccomando Non facciamo sciocchezze Ok Ci siamo Entriamo nel vivo Parliamo delle piante Cose interessanti Belle polpose Davvero Mi mandano in galera Speriamo di no Io Io l'ho detto Non usatele Però Sono belle Sono affascinanti Sono da conoscere E sono da conoscere Punto Ok Se non ci sono domande Fino qui Passiamo a parlare Delle piante interessanti Ci siamo? Buono Partiamo con le quattro Piante diaboliche Per eccellenza Ok Partiamo da quelle Proprio più Badabam Quelle che tra l'altro Io amo particolarmente Sono meravigliose Allora Bella donna Stramonio Giusquiamo E mandragora Qui alla mandragora Le potterhead Saranno lì Che giubilano E festeggiano Per Per questa cosa Ebbene Sì Ebbene Sì La mandragora Ci piace Queste piante In virtù dei principi attivi Presenti Sono altamente Velenose Mortali Ripetiamo Quello di prima Non usatele Nell'antichità Venivano caricate Di un potere Ipnotico Afrodisiaco E venivano utilizzate Per creare Allucinazioni Stordimento Ed eccitazione Nei riti Per incontrare Satana Uuuu Addirittura No Semplicemente Sono piante Allucinogene Che portano Stordimento Stato confusionale E morte Quindi Però ovviamente Qui ripetiamo Le stratificazioni Le superstizioni Hanno poi collegato Questi effetti A modi Per entrare In contatto Con Satana E compagnia Assatanata Allora Iniziamo Dalla bella donna Il nome scientifico È Atropa Bella donna Atropo Era una delle tre moire Quelle figure oscure Che tessevano il destino Degli uomini Negli inferi E tagliavano Il filo della vita Una volta giunto Il momento Ok Ebbene Atropo È proprio quella Che taglia il filo Quindi insomma Quella che rappresenta La fatalità Della morte Spesso Questo La dice lunga Sulle caratteristiche Della pianta Quindi Ecco Già questo Già soltanto Il suo nome scientifico Lascia un attimo Lascia un attimo Presagire Come la pianta Il nome bella donna Invece deriva Dall'antico utilizzo Come collirio Tuttora Si utilizza un estratto Per le visite Oculistiche Le famose gocce di atropina Che non ti fanno vedere Che ti fanno Dilatare la pupilla Così Perché appunto Perché appunto L'atropina Provoca Dilatazione Della pupilla E occhi lucidi Dando maggior fascino E magnetismo Allo sguardo Quindi È da lì Che deriva Il nome Bella donna Perché Le donne Nell'antichità La usavano Per Appunto Aumentare Il loro fascino Per aumentare Questo magnetismo Dello sguardo Contiene Delle molecole Altamente tossiche Che provocano Allucinazioni Stato di frenesia E alterazione Della coscienza Fino alla morte Ok Non usatela Tra l'altro C'è una filastrocca Inglese Per bambini Che descrive I sintomi D'avvelenamento Di bella donna Che dice Che la bella donna Ti rende caldo Come una lepre Provoca febbre Cieco Come un pipistrello Come detto prima Causa dilatazione Pupillare Paralisi Dell'accomodazione Secco Come un osso Perché causa Blocco Della sudorazione Della salivazione Rosso Come una barba Vietola Provoca infatti Congestione Del volto E del collo Matto Come una gallina Scatena infatti Eccitazione Psicomotoria E allucinazioni Quindi Così Una piccola Una piccola Curiosità Molto divertente Secondo me Alta Altra Macabra Curiosità Non usatela Dopo che vi dico Questa curiosità Non usatela Comunque Per l'avvelenamento Da bella donna Non esiste Un antidoto Conosciuto Chiaro? Occhio Non fatelo Però Così Ci siamo Sulla bella donna Bella è Bella pianta La bella donna Molto Molto carina Molto divertente Secondo me Vediamo se Vediamo se Riusciamo a sistemare Anche un po' Telefono Per Instagram Scusate Quando uno Cerca di fare La social Ma non ce la fa Tanto Ecco Ce l'abbiamo Fatta Ok Ci siamo Sulla bella donna? Domanda Sulla bella donna? Procediamo Procediamo Con la prossima Che anche la prossima Non è proprio così Così male A me piace molto A me piace parecchio La adoro abbastanza Come pianta Sto parlando Dello stramonio Lo stramonio Forse È la pianta Forse è la pianta Demoniaca Per eccellenza Ok Uno dei nomi popolari Della pianta In omeopatia Sì Si usa Sì In omeopatia Si usano Tanti Tantissimi estratti Di piante Venenose Mortali Sì sì Assolutamente Per la questione simile Cura simile A tutto qua Questo sì Però ovviamente La Le dosi I dosaggi Di In omeopatia Sono veramente Minimi Cioè potremmo dire Quasi inesistenti Quindi Non danno tutti i problemi Sopracitati Quindi Non è che adesso Non usate più Eventualmente I rimedi omeopatici No Potete usarli tranquillamente Se volete usarli Senza problemi Non vi avvelenano Non diventate come Delle galline Che Starnazzano in giro E poi muoiono Così Pam No Quello no Esatto Esatto Barbara Ma può essere che La iniettassero Per curare L'ulcera Oddio Sai che questo Non lo so Oddio Forse un tempo Sì Ma adesso sicuramente No Assolutamente Però Mi informo Magari Poi Te lo Lo scrivo Mi informo Su questa cosa Per curare L'ulcera Poi Vi faccio sapere Ok Perché Mi giunge nuova Assolutamente Però Nessun problema Ci informiamo Ci informiamo E poi Lo comunichiamo Non usatela Comunque Se avete l'ulcera Non usatela Nel dubbio Non usatela Torniamo al nostro Bellissimo stramonio Oddio Intanto Ok ci siamo Siamo tornati Per un attimo Ero andata via Su Instagram No Ok Torniamo a parlare Del nostro stramonio Meraviglioso Dicevamo Prego Figurati Uno dei nomi popolari Dello stramonio È Pianta del Diavolo Allegge intorno A questa pianta Tra l'altro Un alone di mistero Molto fitto Dovuto anche Al fatto Che i suoi grandi E meravigliosi Fiori bianchi A campanella Si schiudono Di notte Ok Cioè è una cosa Meravigliosa Quindi proprio anche questa Questa sua caratteristica Di schiudersi solo di notte È una cosa Molto affascinante Secondo me E Dall'altro lato È una cosa che ha fatto Molto preoccupare La gente Sicuramente Lo stramonio è pesantemente Allucinogeno Provoca cecità E paralisi respiratoria Nervosa Fino a morte Per suffocamento Cioè è una morte Veramente Terribile Ma veramente Terribile Sapientemente dosata Per l'ulcera Per l'ulcera era Lagrimonia Silvia mi dice Barbara Da Instagram Silvia mi dice Che per l'ulcera Era lagrimonia Non lo stramonio Né la bella donna Quindi ci arriva anche La 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 risposta In diretta Altra pianta Meravigliosa Bellissima Tra l'altro Questa è molto bella Anche da vedersi Magari Poi Le piante citate Metterò poi Le foto Sulla pagina Di Facebook E su Instagram Perché sono veramente Bellissime le piante Quindi magari Ve le metto qui Nei commenti Del video Li metto Metto le immagini Che così Possiamo Possiamo tutte Allostarci un po' Gli occhi Sulla bellezza Delle piante Velenose Procediamo Così Bada Il giosquiamo Il giosquiamo Era noto Agli erboristi Egiziani Quindi Giusto un paio Di anni fa Insomma E nell'antica Grecia E' famoso Per la sua Associazione A Circe Pare infatti Che la maga Circe Abbia somministrato Una pozione A base Di giosquiamo Per trasformare In porci I compagni Di Ulisse Il giosquiamo Veniva bruciato Nei templi Per indurre Negli oracoli Lo stato di trance Necessario Per pronunciare Le loro sentenze Quindi Già qui Possiamo anche Vedere Quanto Quanto potente Fosse Questa pianta Anche soltanto Bruciata E' una pianta Estremamente Potente Anche questa I galli Utilizzavano Un estratto Della pianta Per avvelenare Le punte Delle frecce All'altro E' tipo una morte Velocissima Quindi insomma Anche questa Non è molto Simpatica Come pianta E' un narcotico E' uno psicotropo E mortale Quindi anche questa E' una pianta Estremamente pericolosa Piccola curiosità Del giosquiamo Scusate Il giosquiamo E' ricco Di scopolamina E' una molecola Utilizzata Come siro Della verità A causa Dell'azione Psicoattiva Che dicevamo Prima Oppure come droga Per rapire E Attuare abusi Ok Quindi insomma E' una pianta Un po' Pericolosa Pericolosa In tutti i sensi Scusatemi Un attimo Che Avevo un pro memoria Che mi stava suavando Sul telefono Che uso Però Come router Scusate Piccoli inconvenienti Dei live Sono queste Le cose carine Che rendono vivo Il live Torniamo Serie Torniamo Il nostro Giustiamo Quindi dicevamo Per la sua azione A livello Nervoso E psichico Viene usato Come siro Della verità Tuttora Ok Oppure Viene utilizzato In dosi Molto calibrate Per rapine Per stordire Le vittime Per rapinarle E per abusarne Quindi insomma E' legato Anche A delle Degli utilizzi Non propriamente Piacevoli Ok Ci siamo Su Giusquiamo C'è un nome Del cavolo Giusquiamo C'è sempre Delle difficoltà A pronunciarlo Però E' bellissima E' bellissima Anche questa Assolutamente Se ci siamo Passiamo Alla mandragora Alzino le mani Le fan Di Harry Potter Le voglio vedere Tutte Vogliamo Fuori Fuori Le Potterhead Che carino Molto Molto Divertente Sì sì E' molto bella Come pianta Il giusquiamo E' veramente Bella Sì sì Ci siamo Dove siamo Dove sono Le fan Di Harry Potter Vogliamo La ola Delle fan Di Harry Potter Ecco Silvia Yeee Yeee Eccole 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 Che arrivano Eccole Dai sotterranei Con furore Esatto Esatto Serpe verde Ah Marika Qui c'è un'altra Serpe verde Eccole Eccole qui Oh bene 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 Eccole Eccole Ci siamo Ci siamo Tutte che rispondono All'appello Molto bene Molto bene Oh Aspettate un attimo Abbiamo dei problemi Con la connessione Ci siamo Sono tornata Su Facebook Ci siamo ancora Ho avuto un attimo Di down Del video Dovremmo esserci ancora Sì Ok Mandragora Yo Team Team Mandragora Ok La mandragora O Mandragola È una pianta Sacra Ecate Ecate È la dea Delle streghe Ok È forse la pianta Con il maggior numero Di leggende Che le ruotano Attorno Ok Grazie per la conferma Michela Mi ho avuto un attimo Di azzeramento Dei parametri Ho detto Oddio Siamo morti No Non ho preso Nessuna pianta Velenosa Ok Dicevamo La mandragora È la La pianta Con Un grandissimo Numero Di leggende Che le ruotano Intorno A causa Della forma Antropomorfa Delle sue radici Ok Magari Della mandragora Vi mando anche La foto Delle Della radice Appunto Perché è molto bella Molto Molto suggestiva La radice Viene infatti Anche chiamata Omunculus Veniva chiamata Omunculus E in essere Era chiusa La potenza magica Di questa pianta Veniva caricata Mamma Ecate Sì Tanto amore Per la mamma Ecate Le streghe Vogliamo fuori Anche le streghe Adesso Le streghe Figlie di Ecate Anche qui Orgoglio Orgoglio stregonesco Tiene caricata Di un potente Effetto Afrodesiaco Sempre per questa Forma Antropomorfa E Veniva legata Questa azione Di aumentare La fertilità E curare La sterilità Non fatelo Non provateci Assolutamente No Ci sono altri modi Ne parleremo Magari Io e la Silvia Ne parleremo In un altro momento Sulla sterilità Ma no Cioè sulla fertilità Ma non usate La mandragola Ok Non fatelo Veniva sacrificata Durante i rituali Specifici Per concepire Un figlio sano Non fatelo Eccoci Bene Bene Fra Eccola qua Un'altra strega Ecco Isabella Eccole qua Eccole qua Le wiccan E le streghe Che vengono fuori Bene bene Venite fuori Venite fuori Curiosità Su come Andava raccolta La La radice Di mandragola Ok La notte Tra il venerdì E il sabato Andavano ringraziate Le divinità infernali Poi Ci si doveva Turare Le orecchie Con della cera Con molto Esatto Anche Silvia Su Instagram Dice Con molto piacere Per parlare Della fertilità Ma Non azzardiamo La mandragola Ecco quella Lasciamola Alle streghe L'altro Ne parleremo Allora Dicevamo Ringraziare Le divinità infernali Turarsi le orecchie Con della cera Con della cera Si tracciavano Tre cerchi Concentrici Intorno alla pianta Con una spada Di ferro nuova Francesca Un'altra streghina Bene bene Intorno alla pianta Con una spada Di ferro nuova Veniva poi legato Il fusto Della pianta Con una corda Attaccata Al collo Di un cane Nero A simboleggiare Anche qui Gli inferi E poi Lanciare lontano Un pezzo di carne In modo che il cane Sradicasse la pianta Per andare a prendere Il boccone Succulento Nel mentre Si doveva suonare Forte Un corno Perché tutto questo? Cioè Che razza Tutto ste casino Per raccogliere Una radice Di mandragola Perché? Perché Si diceva E qui Le poterhead Di nuovo Grazie Perché si diceva Che durante lo sradicamento La pianta Lanciasse un grido Talmente forte E letale Da far impazzire E far morire Colui che compiva il gesto Ok? Il sacrificio del cane Veniva poi dedicato A Ecate La suddetta Dea delle streghe Come dono In cambio Della radice Quindi c'era questo Scambio Scambio di doni A Ecate Il sacrificio All'uomo La radice Esatto Gli urli Silvia dice Gli urli Esattamente Come dicevamo prima Per le poterhead Il nome risulta familiare Viene infatti Spesso citata Nel libri Ad esempio Durante la famosa Lezione di rinvaso Delle giovani piante Nella lezione Di erbologia O per la preparazione Di varie pozioni Tra cui quella Per curare La maledizione Del basilisco Ma Non sono io Che Non sono Non sono la persona Più adatta A parlare Di queste cose Nonostante Io abbia amato Molto la Ciao Silvia Ciao Silvia Ciao Alessia Scusa E Appunto Anch'io Sono una fan Di Harry Potter Per cui Non devo Non dobbiamo Ricordare Queste cose Non ce n'è bisogno Nè vero Nè vero Colleghe di Colleghe di libri Ok Andiamo avanti Altra pianta Molto bella Da vedere C'è sempre uno scambio Esatto Barbara Uno scambio Sempre 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 Ma non anticipiamo nulla Non anticipiamo nulla All'ultimo Negli ultimi minuti Del live Scopriremo Scopriremo qualcosa di interessante Come ho già detto Sulla 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 pagina dell'evento Una sorpresa Vi aspetta alla fine Altra pianta Che a me piace molto Da vedere In natura È emozionante Molto emozionante Devo dire La conito La conito È una pianta sacra Saturno Si dice che Sia il primo fiore Nato Dalla bava di Cerbero Alle porte degli inferi Ok Anche questo fiore È sacro a Ecate Appunto La dè delle streghe E del mondo sotterraneo Che usava Veniva usato Da Ecate Appunto Per trattenere con sé I forestieri Che si perdevano Nei pressi Delle porte dell'inferno Ok Rappresentava il maleficio E il desiderio Di vendetta Ciao Sara Ben arrivata Ben arrivata Dicevamo Rappresenta il maleficio E il desiderio Di vendetta L'estratto Veniva utilizzato Per avvenenare Le punte delle frecce Sin dai tempi Ellenici Quindi è una pianta Conosciuta Da Secoli Si diceva Che curasse Il morso Dei lupi mannari Impedendone Impedendo la trasformazione Alla vittima E qui Le fans Di Vampire Diaries Lo sanno bene Vediamo Le fan di Vampire Diaries Dove sono Le fan di Vampire Diaries Avanti Secondo me Ce n'è qualcuna Ce n'è qualcuna Fatevi avanti Veniva chiamato Anche Strozza Strozzalupo Appunto Per questo motivo Ciao Roby Ben arrivata Ben arrivata Dicevamo Le fan Di Vampire Diaries Dove sono Uscite le fan Di Vampire Diaries Curiosità Anche Dell'aconito Sembra Che Alessandro Magno Eccola qui Isabella Bene Bene Benissimo Dicevamo Eccomi di nuovo Team Demon Eh sì Marika Marika Tu la sai Tu la sai lunga Dicevamo Alessandro Magno Sembra sia morto Per avvelenamento Da vino Corretto con Aconito Così Uno non sapeva Cosa fare Il sabato Aperiti vino Eh Dracula Dimran Stuker Eh Sì 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 Fra Hai ragione Pure te Viene chiamato Anche elmo blu A causa Della particolarissima Forma del fiore Che ricorda appunto Un elmo Ok Anche di questo Vi metterò la foto Perché è veramente Bellissimo Altra pianta Che a me piace Molto La cicuta Qui le filosof Esulteranno Perché La cicuta È famosa Per la leggenda Dell'infuso mortale Di Socrate Ok In realtà In realtà Si è visto Che La miscela Mortale Cioè In realtà Il Il veleno Che hanno dato A Socrate Era in realtà Una miscela Non solo cicuta Anche se La cicuta La faceva sicuramente Da padrona In questa miscela Ok Tra l'altro Pare che La miscela Fosse cicuta Stramonio Giusquiamo E Un'altra pianta Che adesso Mi sfugge Però Anche questa Vi metterò la ricettina Di questo Bevanda Corroborante Corroborante Ellenica Ellenica Ok La cicuta Provoca Paralisi Progressiva Preservando Però La lucidità Mentale Rallenta Il battito Cardiaco Fino a uno Stato intermedio Tra vita E morte E poi appunto Porta Porta La morte Ok Ok Quindi Potete immaginare Che morte Del cavolo Sia Quella Per avvelenamento Da cicuta Cioè tu Ti accorgi Che stai morendo Praticamente Parliamone Anzi Non parliamone Proprio per niente Si ritiene Che la dose Mortale Per un adulto Sia qualche grammo Di frutti Quindi anche questa Sapevatelo È una pianta Estremamente Velenosa Esatto Marica dice Terrificante La cicuta Sì Ebbene Sì È terrificante È veramente Una brutta cosa E qui E qui La Silvia Sarà felice Di Sarà felice Della prossima pianta Di cui parliamo Ebbene La digitale Purpurea La digitalis È una delle piante Più belle Secondo me Del mondo E Adesso Parliamo Proprio di lei La digitale Purpurea Veniva chiamata Anche guanto Della volpe O di tale Della strega Ok Quindi qui Già Anche qui Andiamo proprio Sul Sul leggero Subito È una pianta Mortale Utilizzata In passato Per avvelenare Senza lasciare Traccia Anche questa È una pianta Che veniva utilizzata Per Ammazzare Senza lasciare Segni Per la sua bellezza E fascino Ma per la fredda E spietata Pericolosità È associata Alle megere Che vendevano I loro veleni Senza chiedere Né se Né ma Cioè la megere La megere La megere Da cui andavate A chiedere Il veleno Per ammazzare Il vicino Antipatico Non vi chiedeva Per cosa La utilizzavate No Ve la dava E Peggio per voi Quindi Fate voi Fate Vobis Tra l'altro E non mai Rachele Sarei passata Al triste Fiore accanto Che si diceva Il fiore Come un miele Che nebbra L'aria Un suo vapor Che bagna L'anima D'un oblio Dolce Crudele Insomma Barbara dice Ah che beni tempi E Sì Come dire Non si può dire Non è politica Di correct Però Fa niente Lucrezia Borgia Ha anche Un'altra Un'altra Stregona Abbastanza Simpatica Diciamo che Un tè Da Lucrezia Borgia Non sarei mai Andata a bere Non me lo sarei mai Fatto offrire Un Un tè Da Lucrezia Così è Non per mettere Le mani avanti Ma Facciamola a casa mia Lucrezia Adoro Sì infatti Quel passaggio lì Poi della poesia Di Pascoli E per me Veramente Una meraviglia Rende proprio bene L'idea Della Del potere Mortale Della digitale Rende proprio bene Marika dice Se non ricordo male In una scena di Harry Potter Il prigioniero Di Azkaban Per far vedere L'effetto Del dissenatore Sugli esseri viventi C'è un primo piano Di una digitale Porpurea Wow Davvero Che figata Bon Questo Dopo vado a vederlo Assolutamente E confermo Eventualmente Grazie Marika Quindi Questa poesia Rende bene Questo dualismo Di Bella Estremamente bella Ma estremamente Mortale Pascoli era sensibile Alla morte Molto sensibile Alla morte Sì sì Molto Molto In ultimo Ma non meno importante Un'altra pianta Che io Amo Molto Meno velenosa Ahimè Questa Unica pecca La sua unica pecca È di non essere mortale L'iperico Che di per sé Appunto Non è una pianta Demoniaca Vera e propria In quanto veniva utilizzato Quasi come protezione Contro il maligno O per risolvere Possessioni demoniache Ma dall'altro lato Veniva utilizzato Dalle streghe Per propiziare La divinazione Ok Quindi L'iperico Ha questo suo dualismo Di Pianta protettiva Sì Ma piante Che Pianta che favorisce La divinazione Alla strega Quindi veniva utilizzata Appunto per fare Le divinazioni Con le rune Le letture varie Eccetera eccetera Veniva utilizzato L'iperico Appunto Ok Tanta roba L'iperico Sì Silvia dice Tanta roba L'iperico Sì 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 Condivido Perfettamente L'iperico Poi l'iperico Secondo me È molto affascinante Per Per il fatto Che lo si può raccogliere La notte di San Giovanni E da lì Poi c'è tutta La celebrazione Comunque Anche Dell'iperico E appunto Per Per avere Tutti gli effetti Più benefici Dell'iperico Si raccoglie appunto In quella notte Specifica Di notte Viene raccolto Appunto Sarebbe meglio Di notte Raccoglierlo Di notte E poi c'è tutta La preparazione Molto bello Molto Molto affascinante Come pianta Quindi sì Concordo Concordo Con Silvia Ok Domande Dubbi Curiosità Volete condividere Qualcosa Tanta roba L'iperico Concordo Francesca Concorda Sì sì Esatto Tanta roba L'iperico E tra l'altro Anche Anche quella pianta Lì è molto Molto bella Molto bella Sì E poi appunto Come dice anche Silvia C'è tutto il rituale Dietro Di raccolta Di preparazione Esatto Sì Barbara L'iperico A mille proprietà curative Sì sì Molto Molto Ok Anna Mia sorella NB Mia sorella Dice Frega anche la pillola Sì Ecco 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 sapevatelo Se prendete la pillola anticoncezionale L'iperico Lasciamolo dove Ecco Non facciamo Non facciamo l'effetto mandragola Per favore Ecco in questo caso Quando si prende la pillola anticoncezionale L'iperico fa effetto Fa effetto mandragola Ok Isabella Grazie Allora Allora So che si usa Per curare la depressione Sì esatto Caterina Esatto Hai proprio ragione Caterina Viene utilizzato Per curare la depressione L'ansia Tanto amore Per l'iperico Sì ecco Sì sì Ok Ok Voi intanto Se avete altre Altre curiosità Altre Altre domande Eventualmente Altre Altre condivisioni Anche da fare Fatele Io intanto Boom E tempo di spoiler Esatto 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 E se arriva il tempo Della sorpresa Che dicevamo Nella Sulla pagina Dell'evento Arriva il momento Spoiler Eh sì Eh sì Momento spoiler Ta 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 Allora Come abbiamo detto All'inizio Finita la diretta Spoiler numero uno Finita la diretta Sul sito Sul mio sito Ma poi anche su facebook Eccetera eccetera Caricherò i famosi File gratuiti Sulle tradizioni Di sawing O halloween Come Facciamo un cerchio Sì Intanto silvia dice Facciamo un cerchio Ci sto Quando dove Mettiamo l'evento Assolutamente Ci sto Ci sto Ci sto Ci sto Vediamo Silvia si può fare Dopo ci sentiamo E organizziamo il cerchio Assolutamente Allora Dicevamo Spoiler numero uno Sul sito Su facebook Su tutti Su qualsiasi social Mio Dopo Pubblicherò I famosi File gratuiti Sulle tradizioni Di sawing E halloween Le celebrazioni Da fare a casa E un file Memo Con Quello detto Nel live Ok Che siano Anche soltanto Le foto Delle 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 piante Le varie curiosità Che E domande Che Sono saltate fuori Completiamo tutta questa parte qui Ok Ci siamo Siamo pronti al secondo spoiler Spoiler numero due My darling Spoiler numero due Siamo pronti Pronti allo spoiler Uno spoiler un po' succoso Un po' magico Ci siamo Ok Ce la posso fare Da gennaio Ebbene sì Da gennaio Con il nuovo anno Sarà disponibile Il corso online Di erboristeria magica Ok Ebbene sì La mamma erborista Vi farà Un corso online Di erboristeria magica Mi faccio Gli applausi da sola Quindi Chiunque sia interessata A A Questo Corso online Resti sintonizzata Per tutte le info Perché man mano Metterò tutte Tutte le varie info Del caso Eeeh La folla in delirio Ok Ok, quindi rimanete sintonizzate perché poi arriveranno man mano tutte le informazioni, siamo già in fase di preparazione, quindi siamo qui che le tastiere fremono, 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 quindi dato ufficiale di lancio, costi, promozioni, modalità e tutte le info arriveranno presto. Quindi state sintonizzate assolutamente, non vi perdete nessuna news e niente, quindi pian piano arriveranno le varie informazioni e quindi ecco, 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 momento spoiler finito e bene, 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 bene. Ok, qui vediamo una gif da Caterina, ok, un bel Salem che ride in modo sguaiato, bello Salem, ok, 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 bene, bene, sono contenta, sono contenta che vi sia piaciuta questa nuova notizia, questo momento spoiler fantastico. E... beh, ok, direi che... oddio sono di nuovo andata via, vediamo se torniamo, ok, ci siamo di nuovo, ancora questo... anche Facebook è andato un attimo in palla per questa notizia, mi si è azzerato di nuovo, adesso dovrei esserci, dovrei essere tornata. E... bene, 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 io ho finito, se vi è piaciuto, se vi è piaciuto questo live, se avete voglia di lasciare un piccolo feedback sulla pagina, molto volentieri. E... se siete appunto interessate ai vari file, che dicevamo, scrivetemi pure in privato, oppure seguite la pagina, che appena li carico, metterò poi il post che annuncia il caricamento, quindi che sono disponibili i vari file. E... per cui... niente, io vi ringrazio tanto, se non ci sono altre domande, eccetera, eccetera, siete libere di andare. Non andate a cercare, non andate a cercare le piante, mi raccomando, non fatelo, non fatelo, a parte gli scherzi, se non c'è... se non c'è altre... se non ci sono altre domande, possiamo salutarci. E... ok, Silvia, va benissimo, se non ci sono appunto altre domande, altri... eh, ci possiamo salutare tranquillamente. Io resto disponibile assolutamente sulla pagina, qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, qualsiasi cosa, potete scrivermi sotto i post, in privato, tutto quello che volete. Se vi può interessare, sulla pagina sempre c'è il... c'è il post con il... con l'invito per il gruppo di Whatsapp, se vi interessa. Se volete entrare nel gruppo Whatsapp, dove vi invio le varie notifiche, eccetera, eccetera, quindi anche lì potete rimanere aggiornate in modo un pochino più immediato, se volete. E... niente, io vi saluto, vi ringrazio tanto per avermi seguito, buon pomeriggio a tutte, e io vi ringrazio, buon pomeriggio, buon weekend, e buon Halloween a tutte. Ciao ciao, buon weekend, baci a tutte!